Buonasera a tutti, come state? Spero state bene. Oggi è una giornata un po' molto, molto uggiosa. Che cosa potrà uscire di buono in una giornata così? Qualcosa di buono può uscire, scenderà sul nostro viso la pioggia se noi attendiamo che il Signore parli ai nostri cuori. Stiamo lavorando su l'epistola di Giacomo, un'epistola distrattata da tante chiese, anche da tanti studiosi. Noi abbiamo in cuore di predicare la Bibbia parola per parola, quindi abbiamo scelto di predicare su Giacomo, può essere scomoda anche per la mia vita, ma se è scomoda vuol dire che devo cambiare qualcosa, se è scomoda anche per la tua vita vuol dire che devi cambiare qualcosa. E stiamo parlando di questo doppio pesismo e la Chiesa. Vi ricordate che l'ultima volta abbiamo parlato che il favoritismo, la parzialità e ho aggiunto anche volutamente una nuova parola, snobbismo, sono nocivi alla fede. E purtroppo anche nell'ambito cristiano si può essere snobbati da quella che si può definire l'elite cristiana. Spesso dicevo l'ultima volta sono stato escluso su tante situazioni, in tanti modi, perché non ho fatto una determinata scuola, un determinato seminario, oppure perché non conosco l'ebraico, perché non conosco il greco, eccetera, eccetera, eccetera. E come abbiamo visto l'ultima volta esiste il radical chic, l'elite evangelica che Dio detesta, Dio detesta fortemente e ce lo fa sapere che lo detesta. Queste parzialità per Dio non sono accettate quando li facciamo noi. E come abbiamo visto e stiamo vedendo, Giacomo considera tale snobbismo non essere per niente cristiano. Abbiamo imparato che Giacomo è molto pratico, è un teologo se vogliamo morale. Per lui quello che facciamo dice molto di più di quello che diciamo di credere. E quindi su questa tematica lui ha dedicato tredici versetti, tredici lunghi versetti, perché vuole completamente far capire l'importanza che nella Chiesa non ci debba essere alcun favoritismo. Un cuore che pratica il favoritismo nei confronti dei privilegiati, un cuore che ignora i poveri, i bisognosi, un cuore che fa parzialità e messo in pericolo, è messo in pericolo per non dire cose davvero peggiori. Quindi in queste riflessioni che abbiamo iniziato a fare Giacomo mostra come la parzialità, come il favoritismo si collega negativamente alla legge di Dio e questa sera vedremo che questo peccato si collega anche al giudizio di Dio. È dura, eh? E così voglio invitarvi a leggere insieme a me in Giacomo, Giacomo capitolo 2, e vi invito appunto ad alzarvi e leggiamo i primi tredici versetti, anche se poi baseremo il nostro dire sugli ultimi due versetti. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite, tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite, tu statene là in piedi o siedi in terra accanto al mio sgabbello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, amo il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commette l'adulterio ha detto anche non uccidere, quindi se tu non commetti l'adulterio ma uccidi sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, la misericordia invece trionfa sul giudizio. Fin qui la parola, accomodatevi. Abbiamo detto, ormai questa è la quarta volta che ci incontriamo su questa tematica, abbiamo detto che c'è una verità centrale in questi tredici versi e questa è la verità, la fede deve essere scevra, priva, esente da riguardi personali. La vera redenzione produce amore senza favoritismo. E abbiamo detto che in questi versetti Giacomo ci dà sei motivi perché il favoritismo è incompatibile con il cristianesimo biblico. Abbiamo visto precedentemente almeno cinque motivi che il favoritismo è incompatibile col cristianesimo perché è incompatibile con la fede in Dio, vi ricordate il versetto 1? È incompatibile anche con la natura di Dio, se noi usiamo fare il favoritismo andiamo a cozzare con la natura di Dio, abbiamo visto la sua gloria. È incompatibile anche con l'opinione di Dio, è incompatibile anche abbiamo visto con la coerenza di Dio ed è incompatibile l'ultima volta abbiamo visto con l'ubbidienza a Dio. Abbiamo visto che la legge di Dio se viene adempiuta è qualcosa di straordinario, di favorevole. Dice Giacomo questa espressione va bene al versetto 8, ma se invece, e se vi ricordate su questa tematica abbiamo parlato dicendo che se uno mette in pratica la legge regale, mette in pratica almeno, per quanto riguarda l'aspetto verticale con Dio, abbiamo adempiuto almeno i primi quattro dei dieci comandamenti e se mettiamo e se amiamo il prossimo come ne stesse possiamo adempiere benissimo gli ultimi sei dei dieci comandamenti. Abbiamo visto tutto questo e abbiamo detto anche che la legge se viene infranta è un peccato, quindi se tu sei capace di metterla in pratica va bene, se la infrangi invece è un peccato, è una brutta cosa infrangere la legge di Dio. Abbiamo detto anche che ovviamente Giacomo non vuole accentrare tutto sulla legge perché la legge non può salvare, lo vedremo anche fra poco, ma vuole che noi ci orientiamo sulla parola di Dio, su quello che lui dice. Abbiamo visto anche che la legge è una catena e la catena quando si spezza un anello questa catena crolla, crolla tutto, quindi se io commetto un errore, commetto un peccato, ho infranto tutta la legge. Se vi ricordate facevo l'esempio di quando si gioca a pallone, chi non ha giocato a pallone, a meno dei maschietti, quella palla va sempre a sbattere in un punto di un vetro che è quel punto, anche se in basso si infrange tutto il vetro della finestra. E quindi noi siamo visti da Dio come trasgressori della sua legge. E infine abbiamo visto l'ultima volta che la legge ha un solo legislatore, quindi il legislatore è uno, la legge è una e basta un solo peccato, un solo peccato può essere devastantissimo per tutta la legge di Dio. E questa sera vogliamo concludere questa tematica aggiungendo ancora un altro aspetto importante riguardo il favoritismo. Quindi il favoritismo è incompatibile con i credenti perché è incompatibile anche un'ultima cosa con la legge di Dio. E noi vogliamo focalizzare adesso gli ultimi due versetti, il versetto 12 e il versetto 13. Questi versetti appena esaminati hanno rilevato che cosa? Che il favoritismo è un peccato condannato dalla legge di libertà. Poi scopriremo che cos'è questa legge di libertà. E che se ne dica tutti i peccati, e ripeto tutti i peccati portano ad un solo argomento, al giudizio. Non è come nella nostra giustizia, vi ricordate abbiamo detto anche questo sul fatto che la legge era uguale per tutti una volta, no? Ma per quanto riguarda la legge di Dio, Dio dice che anche se ci sono nuove persone, nuove idee, nuove teologie, che Dio alla fine perdona tutti, questa è una grande menzogna diabolica, che che se ne dica tutti i peccati portano a questo argomento che è il giudizio. E Giacomo termina questa sua ringa contro il peccato del favoritismo con due raccomandazioni ad alta tensione. Vediamoli insieme queste due raccomandazioni. La prima raccomandazione ad alta tensione è un appello. Guardate il versetto, come inizia questo appello, questa esortazione nel versetto 12. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Questo è un appello che tiene conto del pericolo del giudizio divino. Parlate e agite, tenendo in mente che dovete essere giudicati. Sicuramente in questa chiesa dove Giacomo sta scrivendo, vi erano dei credenti che stavano ad impianto la legge suprema, vi erano credenti fedeli, vi erano persone che stavano ad impianto questa legge sovrana, questa legge regale. Ma molto probabilmente in quella stessa chiesa vi erano dei falsi credenti. Cioè, c'erano persone che continuamente mostravano favoritismi, parzialità e in questo senso violavano la legge di Dio. Quanti falsi credenti vi sono nelle chiese, no? E poi sono anche di cattiva testimonianza per il Vangelo. E qui Giacomo, se vedete, punta il dito, punta il dito su questi trasgressori. In qualche modo è come se avesse individuato chi sta trasgredendo questa legge e dice proprio così a questi trasgressori, parlate e agite. Nella forma originale greca, il greco mette molta enfasi e si potrebbe tradurre con così parlate, così agite. In altre parole, Giacomo è come se stesse dicendo che non ci devono essere differenze fra il parlare e l'agire. Com'è il detto italiano? Tra il dire e il fare. Ecco, il mare non ci deve essere. Non ci deve essere. Noi siamo fatti così. Noi parliamo, parliamo. Nel mondo si parla, si parla. I politici parlano, parlano. Risolvono tutto prima delle elezioni. Hanno tutto in mano, tutto in pugno. Parlano parole, parole, parole. E l'azione, è l'agire che manca. Quindi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Anzi c'è l'Atlantico, c'è l'oceano. Per Giacomo, per Dio, non c'è di mezzo il mare. Lui dice così parlate, così agite. Non potete prendervi il lusso di parlare, dire, di credere, di dire questo e quest'altro e poi non praticate quello che state dicendo, credendo. Già, per Giacomo ci deve essere un'assoluta coerenza in tutta e per tutta la nostra vita. Quando diciamo una cosa, quella cosa deve essere. E in questa prospettiva cristiana non si può andare in vacanze. Cioè, vabbè Giovanni, ma per un periodo, sai, per un periodo posso solo parlare senza agire. No! Non si può andare nemmeno in pensione. Questa è la prospettiva che Dio ci ha indicato. Se così parliamo, così dobbiamo agire. Non c'è via di mezzo. Non c'è un mare dove navigare senza fare nulla prima di arrivare per fare qualcosa. State seguendo? E Giacomo sta invitando i veri credenti, quelli veri, non quelli a parole, perché di credenti a parole io ne conosco tantissimi, ma Giacomo sta invitando quei credenti veri a comportarsi meglio di come parlano. Perché, dice questo Giacomo, perché se tu ti comporti meglio di come parli, all'orizzonte c'è il giudizio. Sarai giudicato. Se questo consiglio di Giacomo fosse preso sul serio, potrebbe cambiare radicalmente la nostra vita, la mia vita, la tua vita. Cioè, la consapevolezza che Dio è il giudice e che il giudizio sta arrivando, ci dovrà, in qualche modo, far pensare prima di fare favoritismi o fare parzialità. Ci farà pensare prima di fare dei favori a persone privilegiate ed altri no. Qui una cosa è certa. Il fatto immutabile è che subiremo un giudizio finale dalla legge di libertà. Questa legge di libertà che cos'è? Questa legge, se viene accettata, dà libertà. Se viene rifiutata, condanna. Vi ricordate Gesù quando diceva ai suoi discepoli se voi sapete queste cose, siete beati se le fate. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa è la verità che ci farà liberi. La legge di libertà è questa legge che ci fa liberi e Cristo. È stato detto anche prima nella Presidenza. Questo è un fatto immutabile. Ogni essere umano subirà un giudizio. Tutti i non credenti saranno giudicati dalla legge e saranno condannati perché trasgressori della legge. Tutti i veri credenti aggiungo sempre veri davanti perché insomma credenti tutti lo siamo. Infatti Giacomo in questa epistola dirà che anche i demoni credono e lì poi vedremo che fra poco ci arriveremo quella è una una fede demoniaca. ma è fede sempre è e da non tenere in considerazione ma è una fede. E qui Giacomo sta dicendo che tutti i non credenti saranno giudicati ma anche i veri credenti però non saranno giudicati e saranno esaminati non condannati. Il giudizio finale per i credenti sarà uno sguardo alla vita vissuta e ci sarà come un grande schermo con un proiettore che proietterà tutta la nostra vita tutte le occasioni che abbiamo avuto per testimoniare tutte le occasioni che abbiamo avuto per mettere in pratica la parola di Dio e forse non l'abbiamo fatto e sarà messo lì. Lo vedremo. Cioè il giudizio i credenti saranno esaminati non condannati e Dio darà uno sguardo alla vita che abbiamo vissuto. Paolo a questo riguardo dice appunto che il credente non è condannato anzi dice i romani non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù vedete è lui che dà libertà è lui che salva e quindi se io ho affidato la mia vita a lui io non posso non devo temere la condanna infatti Paolo dice non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo e questo non vuol dire che i credenti non saranno giudicati attenzione non sta dicendo questo non c'è la condanna perché sempre Paolo dice in 2 Corinthians 5.10 noi tutti riferendosi ai credenti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo non è il tribunale il trono bianco dove ci sarà il giudizio universale ma comunque è un tribunale chiamato tribunale di Cristo affinché aggiunge Paolo ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto ciò che ha fatto non ciò che ha detto soltanto anche quello che abbiamo detto sarà giudicato ma ciò che ha fatto quando era nel corpo sia in bene che in male quindi Giacomo è preoccupato di questo perciò dice agite parlate e agite perché all'orizzonte c'è un giudizio vedete Dio giudicherà come dice Matteo ogni parola oziosa non solo le azioni ma anche le parole ancora più giudicherà ogni azione in base a ciò che era nei nostri cuori e questa sera non vi voglio rattristare però è meglio saperlo in siciliano si dice meglio dire chissaccio non si sapia cioè meglio sapere le cose piuttosto di dire ah se avessi saputo no lo sai lo sai non voglio rattristarvi sul giudizio ma è anche vero che il giudizio sapendo che c'è un giudizio ed è quello vero senza imparziale senza parzialità quindi deve essere un deterrente per me per cambiare allora questo giudizio non sarà un plesudio casuale dell'eternità ma sarà un momento solenne Dio guarderà il resoconto della tua vita perché ogni credente dice Efessini 2.10 essendo stati creati in Cristo Gesù per fare che cosa? le opere buone noi siamo stati creati in Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo dovete sapere questo Dio salvandoti vuole produrre nella tua vita sapete che cosa? quando Cristo ci salva cosa vuole produrre nella nostra vita? buone 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 opere buone opere la prova che tu sei salvato sono le opere le opere non servono per la salvezza ma le opere servono per manifestare che tu sei salvato la redenzione porta sempre a vivere nell'obbedienza quando tu sei salvato quando tu sei redento sei una persona ubbidiente ora sicuramente abbiamo i nostri tempi di disubbidienza ci sono chi non è mai chi non ha mai disobbedito abbiamo i nostri tempi di disubbidienza sicuramente spero corti semmai ma la matrice di un figlio di Dio sono le buone opere un figlio di Dio da un figlio del diavolo si distingue dalle buone opere un figlio del diavolo si distingue dalle cattive opere è vero alcune opere dei credenti saranno viste come dice Paolo come oro come argento aggiunge anche come pietre di valore ma altre subiranno immensa vergogna per il loro legno per il loro fieno per la paglia e dice in questo prima Corinthians 3 versetto 13 dice espressamente l'opera di ciascuno quindi le opere di ciascuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile non si sfugge perciò tienilo bene a mente che tutto ciò che dici tienilo bene a mente che tutto ciò che fai perché alla fine sarai giudicato alla base di tutto ciò che hai detto e di tutto ciò che hai fatto o non hai fatto e Giacomo il fratello del Signore è visto proprio nella consapevolezza di questa realtà così ordina a quelli che sono inclini al favoritismo di parlare e agire parlate e agite come coloro che saranno giudicati dalla legge di libertà parlate e agite sono imperativi continuate a parlare sta dicendo Giacomo e continuate ad agire nella realtà del giudizio imminente fate quello parlate e agite la realtà è quella perché quello che direte quello che farete sarà un giorno giudicato questa è una realtà che ci porta a una meditazione spirituale io spero che questa sera seppur una giornata uggiosa piovosa possa uscire qualcosa di buono in una serata come questa quando si fa spazio alla parola di Dio il nostro cuore adesso è pieno di tante cose facciamo spazio facciamo entrare la parola perché questa serve per meditare è una meditazione spirituale perché io non conosco il tuo cuore voi non conoscete il mio cuore però Dio sì Dio lo conosce conosce il mio cuore conosce i vostri cuori e saremo incessantemente perfettamente giudicati la seconda raccomandazione che fa Giacomo ad alta tensione abbiamo visto un appello è il versetto 13 c'è un avvertimento e Giacomo conclude con un avvertimento con una nota di terrore con una nota di terrore il versetto 13 sembra un'affermazione simile a un proverbio guardate come dice il versetto perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia e poi conclude la misericordia invece trionfa sul giudizio andiamo per ordine qui allora ci sarà come stiamo vedendo Giacomo ci proietta ci prospetta che ci sarà un giudizio senza misericordia senza pietà è terribile è vero? chi avrà un giudizio senza pietà? guardate il versetto il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato cosa? misericordia ah allora c'è un giudizio che usa è imparziale non come succede nel nostro mondo che tu puoi fare tutto quello che vuoi se hai i soldi vinci tutte le cause il giudizio di Dio dice qua è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia se tu sei una persona che non mostri pietà verso i bisognosi se tu non mostri compassione e mostri favoritismi vari e disprezzo per le persone bisognose nel giorno del giudizio sarai giudicato senza alcuna pietà altro che tutti salvati altro che mi chiederai perché Giovanni dici così perché ci sarà questo giudizio senza pietà perché ci sarà un giudizio senza misericordia perché non sei un credente perché non sei un redento per questo sarai condannato senza pietà vi ricordate la parabola del servo senza pietà raccontata da Gesù in Matteo 18 vi ricordate questa parabola lo schiavo doveva al suo padrone un'immensa somma una somma incredibile che ai nostri giorni alla valuta di oggi potrebbe arrivare a circa 20 milioni di euro una cifra impensabile impossibile un debito impossibile da pagare da ripagare e quindi questo servo supplicò il suo padrone e a sua volta questo padrone quando vide questo servo così a supplicarlo ha avuto compassione di lui e cosa incredibile gli condonò sorpretendemente tutto il debito e lui lo ha ringraziato il problema è che questo servo incredibilmente condonato da questo debito in mane esce trova uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari sapete quanto sono 100 denari circa 1600 euro e quello non poteva pagare quello lo ha supplicato e diceva io ti pagherò ma abbia un po' di pazienza e lui che cosa fece lo fece mettere in prigione finché non avesse pagato tutto il debito e questa storia non se la passò liscia perché ci sono stati altri conservi che hanno sentito e visto la situazione e sono andati da quel signore a raccontargli tutto e il signore convocò a sé il servo malvagio senza pietà e gli disse leggo il versetto servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te Gesù continua la storia e dice il versetto 33 del capitolo 18 di Matteo e il suo signore ha dirato arrabbiato lo tiene in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva i 20 milioni di euro e conclude dicendo Gesù conclude dicendo finisce la storia finisce la parabola e dice così vi farà anche il padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello così vi farà altro che non farà così vi farà la parabola ci rivela la psicologia spirituale dell'anima noi non siamo psicologi però la parola di Dio ci fa vedere questa psicologia spirituale cioè un'anima cioè uno spirito spietato rivela un cuore che non ha ricevuto la misericordia quando tu sei spietato quando tu dici me l'ha fatta grossa non lo posso perdonare non la posso perdonare tu stai rilevando che cosa che non hai mai ricevuto la misericordia di Dio ecco la psicologia spirituale ma un cuore che è stato oggetto della misericordia divina come sarà misericordioso non c'è spazio per dire guarda cosa mi hai fatto a tale data perché ci sono alcuni che si segnano le date e te li tirano fuori sì eh non c'è spazio per dire quel tale giorno quell'anno tu hai fatto questo mi hai detto questo un cuore che è stato oggetto della misericordia divina sarà misericordioso a proposito la frase giudizio senza misericordia deve significare un giudizio senza pietà deve significare un giudizio severo pieno un giudizio persistente cioè l'inferno il giudizio senza pietà è l'inferno e il testo dice poiché perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia non essere misericordiosi è una caratteristica dei non salvati eppure conosco persone che si definiscono credenti cristiani che non riescono a perdonare si prendono la santa cena cantano pregano alcuni sono pure pastori per dire no? esagerato quando c'è una persona che non riesce a perdonare sta manifestando che il suo cuore non ha ricevuto il perdono di Dio vedete amici fratelli il Vangelo trasforma se io sono qua perché Cristo mi ha trasformato il Vangelo trasforma il cuore e quando una persona è grezza quando una persona non è capace di perdonare e tu credi nel Signore Gesù tu credi nel Vangelo ti sottometti alla sua parola che cosa succede? succede che il nostro cuore inizia a essere simile al cuore di Dio non uguale perfettamente perché lo saremo in cielo perfettamente come Dio nel senso di perfezione ma quando tu accetti il Vangelo e spero che qui questa sera o chi ci segue da casa faccia questo passo di credere nel Vangelo e chiedere aiuto allora qui inizia la trasformazione per renderci simili al cuore di Dio e Dio com'è? Dio è misericordioso Dio è compassionevole è imparziale non guarda se tu hai la clavatta se hai la pelliccia guarda il cuore vi ricordate quando Samuele doveva scegliere il re sarà questo sicuramente è bello alto no no e Dio dice io non guardo l'apparenza io guardo al cuore e i veri credenti quelli veri con la C maiuscola quelli credenti credenti saranno così saranno a sua immagine e somiglianza cioè quell'immagine e somiglianza che il peccato ha devastato che ha frantumato quando io credo nel Signore Gesù quando seguo la sua parola si ricompone quell'immagine che il peccato ha devastato inizia a battere dentro di me il cuore di Dio e il cuore di Dio è un cuore che perdona che dà soccorso questa è la prova vedete questa è l'evidenza se una persona è salvata se nella tua vita non ci sono atti di misericordia se nella tua vita non batte il cuore di Dio se nella tua vita non scorre il DNA di Dio è evidente che la vita di Dio non è in te senza ma e senza però potrai conoscere la Bibbia in memoria potrai aver predicato e lui ti dirà io non ti ho conosciuto mai mai perché perché il sangue di Dio non era nel suo sangue il cuore di Dio non batteva in lui Giacomo è come se stesse dicendo descrivendo il momento del giudizio e l'idea che ne viene fuori è questa quando il Signore Gesù tornerà come giudice perché quello sta dicendo Giacomo se non trova nella tua vita atti di misericordia se non trova tracce di bontà verso i bisognosi ti giudicherà senza pietà parlate e agite vi ricordate le beatitudini chi non conosce le beatitudini però magari non ci facciamo caso in Matteo 5,7 dice così beati i misericordiosi perché a loro che cosa sarà data misericordia è questo quello che vuole dire Giacomo se tu sei misericordioso nel giorno del giudizio trionferai il giudizio se di te non avrà nessuna valenza vi ricordate il detto chi di spada ferisce di spada perisce sapete da dove viene questo detto chi lo sa da Gesù Gesù vi ricordate quando Pietro spavaldo diceva signore questo non ti accadrà mai quando poi sono andati per arrestarlo un giovane era vicino lì lui ha tratto la spada e gli ha tagliato un orecchio e Gesù disse a Pietro riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada chi di spada ferisce di spada perisce e nel nostro contesto potremmo dire chi misericordia distribuisce nel giorno del giudizio di misericordia si arricchisce perché il giudizio non avrà non triunferà su di te perciò quando vedi una persona che è imparziale e devo dirvi che ce ne sono grazie a Dio non sono tutti parziali in questo mondo ma ci sono persone che sono imparziali quando vedi una persona che non fa favoritismo quando vedi che una persona usa misericordia verso le persone bisognose chiunque essi siano quando vedi una persona che ama gli altri come se stesso hai davanti una persona nella cui vita Dio ha versato misericordia e amore potrà non conoscere tutta la Bibbia potrà non essere vestito ben vestito forse nemmeno profumato ma è una persona che Dio a cui Dio ha versato la sua misericordia e il suo amore e questa persona che cosa fa? distribuisce amore e misericordia per tutte le sue possibilità e Giacomo chiude se vedete qui il versetto 13 con queste parole la misericordia invece trionfa sul giudizio cosa significa? se la tua vita è caratterizzata dalla misericordia tutta la tua vita trionferai sul giudizio è semplice non è complicato non lo vedete come un versetto difficile da capire no è semplice la misericordia invece trionfa sul giudizio perché è una persona che è impregnata di misericordia perché l'ha ricevuta da Dio è una persona che dà misericordia e se la tua vita è caratterizzata dalla misericordia di Dio tu trionferai sul giudizio sfuggirai al giudizio perché chi è misericordioso dimostra di avere una vita trasformata questo è il punto di Giacomo e non fa favoritismo sta dimostrando a tutti che è un uomo nuovo una donna nuova in Cristo quando usi misericordia e la distribuisce a chiunque non è una questione di accumulare punti non è una questione di accumulare meriti personale per meritare la salvezza non sta dicendo questo è stato frainteso Giacomo non vuole dire questo Giacomo ma qui non si tratta di accumulare meriti personali per avere la salvezza attraverso le buone opere ma è semplicemente quando io uso misericordia è semplicemente l'opera di Dio non è merito mio è l'opera di Dio che ha compiuto in te in me e nessuno potrà prendersi il merito perché il merito se io sono misericordioso è merito di Dio non è merito mio è il premio Nobel per la pace per la misericordia non va agli uomini va a Dio che ha inserito nel loro cuore la sua misericordia il suo amore vi ricordate Giacomo capitolo 1 25 ha già parlato della legge di libertà quando si accetta Cristo nella propria vita tu sarai giudicato in base o esaminato meglio in base alla legge di libertà come vi dicevo prima in Giovanni dice se perseverate nella mia parola siete veramente mie discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi Giacomo ha già parlato di questa legge di libertà perché vuole che i credenti che frequentano le chiese o chiunque al mondo sia propri di questa legge perché questa legge di libertà ti dà libertà e ti protegge dal giudizio questa libertà che abbiamo a prendere possiamo prendere in Cristo ci permette di penetrare profondamente nell'amore di Dio questa legge di libertà ci permette di andare penetrare nella sua misericordia e non solo ci rende capaci di amare cose che non saremmo capaci di fare se non fosse per il Signore ci rende capaci di essere misericordiosi ricordando che la misericordia è superiore la misericordia trionfa su che cosa? Sul giudizio la misericordia trionfa sul giudizio perciò io voglio essere misericordioso io voglio essere come Cristo e Cristo ha usato misericordia vero? Cosa diceva il Signore in croce? Padre perdona loro se questo non è misericordia se questo non è amore allora non abbiamo capito nulla e lui diceva proprio questo perdona loro perché non sanno quello che fanno e lui ha dato la sua vita per noi mentre eravamo ancora peccatori dice Paolo eravamo distanti e lui ha mostrato la sua amora il suo amore la sua misericordia così vedete Giacomo ci porta al culmine di una grande discussione ha riassumato un peccato che era diventato ormai una normalità che non era più visto come peccato il favoritismo certo se arriva il sindaco gli diamo il posto qua primo posto d'onore arriva Luciano diciamo stai in piedi si sente un cattivo odore stai lontano ma dai tieni la porta aperta no no Giacomo ci porta al culmine di una grande discussione dove per Dio non c'è parzialità in Dio c'è imparzialità il favoritismo è incompatibile con la vita cristiana per sei motivi il favoritismo è incompatibile con la fede in Dio è incompatibile con la natura di Dio con l'opinione di Dio con la coerenza di Dio con l'ubbidenza a Dio e con la legge di Dio Signore liberaci dalla follia del favoritismo che Dio vi benedica e se c'è qualcuno che ancora non ha aperto il cuore a questa legge di libertà cioè se non ha aperto il cuore a Cristo Gesù che dona libertà beh cosa dirvi io se fosse al posto vostro farei quello che Giù ha fatto quando avevo 16 anni mi sono arreso a lui e non è un momento religioso però è un momento solenne che segna la tua vita come ha segnato la mia vita da quel momento io non è che sono diventato perfetto man mano qualcosa cambia nella mia vita adesso sono passati 40 anni da quel giorno ne avevo 16 il Signore sta operando un grande miracolo nella mia vita una cosa che vuole fare anche nella vostra vita nella tua vita e questo lo fa attraverso l'opera sua attraverso lo Spirito Santo e attraverso questa parola una parola eterna una parola che tocca la profondità del nostro essere tocca i nostri pensieri profondi ci fa vedere cosa non va e ci suggerisce cosa dobbiamo fare che Dio vi aiuti ci aiuti ad essere senza favoritismi ma ad essere protetti di questa legge da questa legge di libertà perché in Lui in Lui c'è libertà e non dobbiamo temere il giudizio che Dio vi benedica Amen grazie 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 grazie